Dopo la riunione di ieri tra l'assessore alla sanità Nicoletta Veri, referente della campagna vaccinale Maurizio Brucchi, il direttore del Dipartimento Claudio Damario, le ASL e le altre parti interessate, l'Abruzzo riorganizza la campagna vaccinale all'indomani dello stop del Ministero ai vaccini AstraZeneca agli under 60 e si conformerà, è stato detto, alle indicazioni nazionali. In questi giorni le ASL, dice l'assessore regionale Veri, stanno riorganizzando le proprie agende e verificando l'esatta quantità di vaccini aggiuntivi necessaria, che verrà poi richiesta alla struttura commissariale nazionale. Non cambia nulla per gli over 60 e per chi, di qualunque età, ha già iniziato il ciclo vaccinale con i sieri Pfizer e Moderna. Intanto ci saranno dosi sufficienti di questi ultimi vaccini per i richiami per chi ha già effettuato la prima dose di AstraZeneca. Il dottore Alberto Costantini, direttore dell'unità operativa complessa farmacia ospedaliera di Pescara. Dottore, alla luce di quanto è accaduto con AstraZeneca, in Abruzzo le dosi per i richiami Pfizer e Moderna sono sufficienti? Sì, sì, le dosi sono sufficienti. Abbiamo chiaramente una rimodulazione nella numerosità dei vaccini, però questo viene compensato con le consegne settimanali che arrivano dalla struttura commissariale di Roma, vengono compensate e quindi non abbiamo problemi sulla numerosità, quindi sul numero dei vaccini come prima dose e come seconda dose. Non ci sarà alcuno slittamento o potrebbe esserci un rallentamento del cronoprogramma? Tra l'altro l'Abruzzo è una delle regioni più virtuose. No, io non credo che ci saranno dei grossi problemi né i rallentamenti, però questo dipende chiaramente da noi, dipende dal cittadino che deve con fiducia continuare la campagna vaccinale. Siamo stati una delle regioni più virtuose in questo senso. Prima ci vacciniamo e prima usciamo da questa situazione sconfiggendo il virus e quindi tornando a una vita normale. Ovviamente dipende anche dalla struttura commissariale nel rifornimento delle dosi. Noi ci aspettiamo che ci sia una rimodulazione, quindi una riprogrammazione. Ripeto, abbiamo consegne settimanali, già nei prossimi giorni vedremo come la struttura commissariale rimodulerà la numerosità dei vaccini che ci consegna. Dottore, un consiglio da dare a chi ha fatto come prima dose AstraZeneca e ora farà un richiamo con Pfizer e Moderna? Il consiglio che mi sento di dare è soltanto quello di dichiarare e comunicare bene al medico vaccinatore che fa l'anamnesi quali sono i farmaci che in quel momento, nel periodo immediatamente antecedente alla vaccinazione, il cittadino assume. Questo è importante perché dalla tipologia di assunzione di farmaco che eventualmente si assume, ci può essere una scelta più o meno ponderata verso un tipo di vaccino piuttosto che un altro. Quindi questo è importante, dichiarare quale farmaco si utilizza, questo aiuta molto il medico nella fase di anamnesi. Grazie.